È giunto il momento di salire qua sopra Lì ovviamente come al solito c'è il parpol Il parpolone che se ne sta proprio lì Bene, vediamo un attimo che cosa c'è su queste piattaforme Peraltro da qui si vede la luna è abbastanza inquietante questa cosa Ok, non so esattamente che cosa pensare di questa cosa E per quale motivo ci sia Ma che cavolo Come non girarti Cosa vuol dire questa cosa? Oh mio dio, ma che cavolo è No, 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 no Allora, prima di tutto come diavolo mi son salvato Ho fatto pure uno screenshot Per sbaglio E sono caduto per sbaglio Io non ci salirò mai più su quelle cose Mai più Ma che cosa vuol dire sta cosa? Oh Santa Marianna delle Rose Bicille Ma dove sono? Allora, praticamente io sto vedendo solamente Questa diavolo di coso E anche questo coso E anche questo coso Tuttavia Non vedo niente Cioè vedo tutto il video strano Dove diavolaccio sono? Sono praticamente secondo me in uno di quei crepacci Che cavolo è sto posto? Non è normale Io ho paura No, no, no Raga, 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 raga Raga, raga ho paura Guardate è tutto buio È tutto buio È tutto buio È tutto buio No, 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 no Ho paura che ci sia un mostro qua Raga, ho paura che ci sia un mostro Raga, ho paura che ci sia un mostro No, 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 no Nono no 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 Chi umano la spada Nono no raga raga Ho paura che mi arrivi qualcuno da dietro Dove diavolo sono No 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 Ti prego no ti prego Raga dove io voglio uscire da qua Ti prego fatemi uscire E che non posso uscire guardate non mi scava Niente sto diavolo di coso Mi dice che mi serve Un altro tipo di piccone Ma in realtà non funziona Guarda, giuro Non funziona No, no, raga Io mi sto chiamando addosso Per favore Non riesco Non riesco Come diavolo No Vedete, qua sopra C'è una sorta di soffitto esatto Però Qua vedo che È semplicemente un tunnel Dove non c'è niente Spero Oh mio Dio No, no, no No, raga Mi sono chiamato addosso Raga, mi sto ammazzando No, no, no Ok, l'ho ucciso L'ho ucciso Scappo Oh, raga Sono uscito da qua Io Veramente vi giuro Che una cosa così Inquietante Su Minecraft Non l'avevo Mai vista E per carità Lasciamo perdere Il signor Purple qua Che mi sta seguendo Io non voglio mai più vedere Una cosa del genere Io ora ho paura Di entrare in questo mondo Scrivetemi se volete Che continuiamo Questa serie Nei commenti Dico Ovviamente E Iscrivetevi al canale Per continuare a vedere Altri di questi video Ci vediamo al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti